Potremmo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. ADS attivo in posizione. Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Finito col filo spinato. Ancora dieci secondi. Restano cinque secondi. Il muro è fatto. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Barricata sicura. Finito spinato in campo. Iscrivetevi al canale. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.